buongiorno a tutti oggi condivido con voi la realizzazione di una rete di protezione antigrandine per le mie stringhe fotovoltaiche io sono alfredo benvenuti sul mio canale eventi climatici estremi come delle grosse grandinate possono irreparabilmente danneggiare i nostri pannelli fotovoltaici dopo aver visto personalmente i danni causati da chicchi di grandine grandi come palle da tennis ho deciso di realizzare un sistema di protezione per le mie stringhe fotovoltaiche questa rete zincata ha maglie abbastanza grandi da far passare la luce ma abbastanza piccole da bloccare i chicchi più devastanti distanziata di 20 centimetri dai miei pannelli questa rete con un ottimo ammortizzamento permette di proteggere la mia stringa fotovoltaica per tutta la sua lunghezza questa rete zincata normalmente utilizzata per le gabbie dei polli ha un diametro del filo di 0,7 millimetri la trama della rete realizza delle maglie non più grandi di 16 millimetri per 20 in modo da bloccare chicchi di grandine sopra i due centimetri questa trama risulta il miglior compromesso tra passaggio della luce solare e blocco della grandine ho scelto la versione con altezza di 200 centimetri in modo da proteggere ciascun pannello per la sua lunghezza i miei pannelli infatti sono lunghi 176 centimetri e larghi 113 con un rotolo da 25 metri sono riuscito a coprire entrambe le mie due stringhe fotovoltaiche per un totale di 5 kilowatt link in descrizione per tendere correttamente questa rete per tutta la sua lunghezza ho utilizzato un tondino di ferro del diametro di 10 millimetri normalmente utilizzato nell'edilizia infilandolo attraverso le maglie della rete e fissandolo attraverso un tirante ad una struttura in legno travetti 4x9 fissati alla sottostante tettoia in descrizione troverete i link ai ganci ai tiranti e ai moschettoni per realizzare questo sistema di aggancio la presenza del tondino in ferro inserito sulle maglie in maniera alternata permette di dare maggiore rigidità alla rete per tutta la sua lunghezza lavorando questa rete su una lunghezza di circa 8 metri nel calcolare la lunghezza della rete da tagliare dovremo necessariamente togliere una ventina di centimetri al fine di realizzare un corretto tensionamento ho inserito nella parte centrale un piccolo sostegno in legno per aumentare la tenditura di questa rete ma bando alle ciance e passiamo alla realizzazione pratica di questa rete di protezione antigrandine anzitutto mi procuro i tondini per cemento armato del diametro di 10 mm in una qualsiasi rivendita di edilizia queste verghe sono vendute nella lunghezza di 6 metri ma potrete chiedere direttamente al vostro negoziante di tagliarvele a 2 metri di lunghezza ciascuna con apposita accesoia nel mio caso ho utilizzato semplicemente una smerigliatrice angolare la rete zincata è disponibile online su ebay a questo prezzo verrà recapitata comodamente a casa prima di tagliarla per la lunghezza delle mie stringhe meno 20 centimetri inserisco il tondino lungo 2 metri attraverso le maglie in maniera sfalzata questa operazione inizialmente facile diventerà man mano che il tondino raggiunge la fine sempre più difficile a tal proposito vi consiglio di spruzzarvi sopra ogni tanto del lubrificante del tipo vd 40 per rendere più facile questa operazione oppure ancora meglio farvi aiutare da qualcun altro verso la fine una volta fissata la struttura in legno alla tettoia agganciati i nostri tiranti al gancio sul legno e al moschettone sul tondino per cemento armato non rimane che tendere tutta la struttura utilizzando proprio gli appositi tiranti ripetiamo questa operazione di tensionatura per tutti gli altri tiranti della struttura fino ad ottenere una rigidità abbastanza sufficiente per far rimbalzare i nostri chicchi di grandine e a questo punto andiamo a vedere come fissare la rete all'altro capo dove è presente un muro in cemento per il fissaggio a muro ho utilizzato il solito moschettone e un gancio aperto un tassello ad espansione specifico per muri con un gancio aperto della fissaggio per pareggiare la posizione della rete rispetto al muro ho inserito anche un ulteriore tirante in modo da avere la giusta distanza dal muro e a questo punto la mia stringa fotovoltaica lunga 8 metri è completamente protetta dalla grandine e riesce comunque a generare energia grazie a queste maglie molto larghe con una perdita di potenza solare irrisoria dall'epoca dell'installazione di questa rete di protezione sono passati circa sei mesi e già questa rete di protezione ha superato brillantemente un collaudo a seguito di una forte grandinata avvenuta nella mia zona bene amici anche per oggi è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto se è così mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al solito alla prossima volta